Omilia della seconda domenica di Quaresima La seconda domenica di Quaresima ci presenta nel Vangelo l'episodio della trasfigurazione. La trasfigurazione è stata una manifestazione della divinità di Gesù e un'anticipazione della gloria futura. Prima di salire il Calvario, Gesù sale il monte Tabor per ritrobustire la fede degli apostoli e infondere coraggio nel portare la croce. Sul monte Tabor Gesù discute con Mosè ed Elia sulla sua prossima morte di croce che avrebbe subito a Gerusalemme. L'alleanza con Abramo fu fatta con il sacrificio degli animali. La nuova ed eterna alleanza si realizzò invece con il sacrificio del Figlio di Dio Gesù morto in croce e risorto per la nostra salvezza. Si udì una voce dal cielo, la voce del Padre che disse «Questi è il Figlio mio, l'Eletto, ascoltatelo». Questo episodio ci offre diversi insegnamenti. Prima di tutto ci insegna la necessità della croce. La gloria passa per la croce. Chi vuole entrare nella gloria deve salire anche lui il Calvario dietro a Gesù. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura, ci dice che molti si comportano da nemici della croce di Cristo. Tutti vogliono andare in paradiso, ma pochi sono quelli disposti a portare la croce sulle loro spalle. Tutti vogliono arrivare alla risurrezione senza passare per il mistero della crocifissione. Anche Pietro preferiva starsene sul monte Tabor, ma, come si legge nel Vangelo, non sapeva quello che diceva. Il secondo insegnamento riguarda la necessità della preghiera. Anche noi dobbiamo fare esperienza della trasfigurazione. Anche noi dobbiamo salire il monte Tabor con Gesù e questo lo facciamo con la preghiera. Come Gesù vuole irrobustire la fede degli Apostoli, così vuole irrobustire anche la nostra fede e fortificarci nel portare la croce attraverso le gioie e le consolazioni che ci vengono dalla preghiera. Gesù salì sul monte a pregare. Impariamo da questo quanto sia importante la preghiera. Non se ne può fare a meno. La preghiera è la cosa più importante e i monasteri e le case di contemplazione possono essere considerati come le sorgenti nascoste che danno vita a tutta la Chiesa. Il beato Luigi Stefanaz, arcivescovo di Zagabria nel XX secolo, aveva in così grande considerazione la vita contemplativa che appena divenne vescovo, volle in diocesi un monastero di clausura, ben sapendo quanto sia importante avere delle anime oranti che attirino la grazia sul mondo intero. I contemplativi sono i più grandi benefattori dell'umanità. Un altro insegnamento riguarda la gloria futura. Anche il nostro corpo risorgerà e sarà glorificato ad immagine del corpo glorioso di Gesù e dell'Immacolata assunta in cielo. San Paolo, nella seconda lettura, ci dice che Gesù Cristo trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo a suo corpo glorioso. Per questo motivo dobbiamo amare e praticare la virtù della purezza. Anche il nostro corpo è chiamato alla gloria del paradiso, a condizione che serbiamo la purezza. Gesù nel Vangelo dice, Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Lo vedranno in paradiso, ma già su questa terra assaporano le gioie della vita eterna. La purezza è già un anticipo della gloria futura. Dio, alcune volte, premia la purezza dei Suoi servi con doni particolari. Pensiamo a San Pio da Pietrelcina. Quanti lo avvicinavano avvertivano un profumo di paradiso. E così altri santi. Pensiamo alla beata Giacinte di Fatima. A distanza di tanti e tanti anni dalla sua morte, il suo corpo è ancora incorrotto. Esempi del genere se ne potrebbero fare molti. La purezza è la presenza dell'Immacolata nel nostro cuore e il profumo del suo candore. Eliminiamo dalle nostre case tutto ciò che offende una virtù così bella. Pensiamo a tanti programmi televisivi e a tante riviste indecenti. Le nostre case diventano come tante discariche nauseanti. San Luigi di Montfort terminava le sue innumerevoli missioni popolari con una cerimonia particolare. Invitava tutti i fedeli a portare in piazza tutte le immagini indecenti che si trovavano nelle loro abitazioni. E poi accendeva un grande fuoco distruggendole tutte ed esortando tutti a non tenerle mai in casa. Facciamo anche noi questa pulizia nelle nostre case. Infine, l'episodio della trasfigurazione ci insegna ad ascoltare Gesù. Lui è il nostro Maestro. Noi tutti gli dobbiamo obbedienza. Gesù ci parla nel suo Vangelo. Da questo deriva il dovere di leggerlo, di meditarlo. Ci parla attraverso i suoi rappresentanti qui in terra. Il Papa, i Vescovi. Chi ascolta loro, ascolta Gesù. Da ciò deriva il dovere dell'obbedienza alla Chiesa, che è madre e maestra, che ci insegna ciò che è secondo Dio e ciò che dobbiamo evitare. Grazie. 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 Grazie.